L'unico consiglio che mi sento di dare a un giovane che voglia intraprendere questa strada è quello di seguire una sana passione, un sano amore per le cose belle, per l'arte e nutrirsi di tutto, non concentrarsi, purtroppo come tutte le professioni sono lavori che assorbono molto nel tempo, però uno non si deve neanche chiudere e confinare a un'unica dimensione, quindi nutrirsi di più cose e quindi mantenere la mente aperta agli stimoli. Un consiglio da dare a chi vuole fare il mio lavoro è presto detto, lo faccio in continuazione a scuola, bisogna disegnare moltissimo, bisogna disegnare dal vero soprattutto, perché il cervello tende a riportare delle immagini, degli oggetti che dobbiamo rappresentare a memoria, di conseguenza più si disegna dal vero, più si diventa consapevoli degli oggetti nello spazio, delle figure nello spazio e quindi si riesce ad ottenere un disegno un pochino più tridimensionale, più originale, altrimenti, ripeto, si tende a ripetere lo stereotipo. Quindi disegnare assolutamente qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, possibilmente dal vero e poi seguire le proprie passioni, i propri autori, guardarli con un'attenzione consapevole di quello che è il vero e proprio lavoro di queste persone. Se dovessi dare un consiglio a chi si approccia a questo mestiere, sicuramente è quello di tenere duro. A disegnare si impara, sicuramente una predisposizione aiuta, ma in realtà la maggior parte del lavoro viene fatto a casa con tanto duro lavoro, tanto sudore e quindi non mollare mai, quindi probabilmente rinunciare a una serata con gli amici, a volte a un cinema, per stare sulle tavole a cercare ciò che ci piace del disegno e tirare fuori piano piano la propria personalità, anche se questo è un percorso estremamente lungo, estremamente anche accidentato, fatto di momenti di sconforto, momenti di preoccupazione, ma alla fine, anche se è un luogo comune, chi la dura la vince. Un consiglio a chi vuole diventare disegnatore di fumetti è sicuramente quello di disegnare moltissimo, ma soprattutto divertirsi, cioè disegnare divertendosi, perché comunque quando il disegno viene realizzato, quando ci si diverte appunto, ha tutta un'altra energia, ha tutta un altro appeal e questa è una cosa di cui mi rendo conto proprio su me stessa, sui miei lavori. Disegno albi illustrati perché ho un'esigenza, quindi è l'esigenza di raccontare. Il risultato di questa esigenza è l'albo illustrato. Molte volte in classe, durante le lezioni, sento domande del tipo ma come facciamo a pubblicare, come facciamo a proporci a un editore, come presentare un book, ma io non sono stato ancora pubblicato, vorrei trovare il modo di pubblicare. Ecco, il consiglio che io do è questo, non pensare alla pubblicazione. Noi, la pubblicazione è una conseguenza di quello che facciamo, è un lavoro, è un lavoro? Non lo so se è un lavoro, è una passione, è qualcosa che sento, che sento da sempre e cerco di trasmetterlo. Quindi il consiglio è dare il massimo, abbassare l'ego, essere molto umili, se non veniamo selezionati o non veniamo scelti da un editore, facciamo il punto della situazione per capire dove sono le nostre mancanze, e il perché. Ci sono sicuramente delle motivazioni legate o ad aspetto tecnico, o ad una maturità espressiva, o a una qualità tecnica non adeguata alla pubblicazione, ma la pubblicazione è solo una conseguenza della nostra passione. Un consiglio che darei a chi vuole fare questo lavoro è riuscire ad avere quella curiosità e quella perseveranza che possa arrivare a cibarsi un po' di tutto, non solo del fumetto, ma anche di una letteratura che possa essere classica, di una cultura comunque generale, usando comunque tutti i media e le forme di comunicazione che ci sono oggi a disposizione. Quindi non soffermarsi solo nel mondo dei classici del fumetto, non solo studiare i classici del fumetto e i grandi autori, e riuscire poi a condensare il tutto sotto una forma diciamo autoriale che ti permette comunque di esprimere una tua esigenza, un tuo concetto di storia tramite il fumetto. In fin dei conti scegliere di fare il lavoro del fumettista, per esempio quando ero giovane la mia famiglia non si è opposta, però c'era un po' di diffidenza, perché comunque è un lavoro artistico, che comunque non ti dà una certa sicurezza, poi devi scoprire in effetti se sei all'altezza, se sei bravo eccetera, però comunque è un mestiere che io sceglierei e il consiglio che posso, che sceglierei di nuovo insomma, il consiglio che posso dare a dei giovani disegnatori è quello intanto di diventare bravi tecnicamente, anche se uno vuole fare il disegnatore o l'autore underground, non lavorare con i fumetti tradizionali, commerciali, comunque l'aspetto tecnico è fondamentale, per saper raccontare e poter raccontare bene ci vogliono gli strumenti giusti, quindi umiltà, rimboccarsi le maniche e imparare le cose che ti servono, non tutte, non decisamente a 360 gradi, però almeno le cose che ti servono impararle bene, non dico di fare una scuola di settore, ma comunque se uno vuole impararsi a scrivere, conoscere un professionista oppure frequentare un corso non è male. Per quanto riguarda i fumetti, io non disegnerei come ho cominciato, ma come hanno cominciato anche tanti autori che adesso sono affermatissimi senza fare nomi, di fare un po' di cavetta, un po' di apprendistato con il fumetto commerciale seriale, perché e se io l'avessi fatto di più prima avrei potuto fare le cose migliori, perché il fumetto seriale è un allenamento che ti consente di avere una padronanza e di far uscire in maniera più sicura e anche con una chiarezza maggiore le cose che hai in testa. Quindi fare un percorso legato molto al mestiere, all'artigianato, alla conoscenza, e poi si possono raccontare cose anche molto personali oppure scegliere una strada alternativa. Il fumetto è veramente una forma di letteratura che ti consente di un ampio raggio di scelte. E poi ovviamente cercare di lavorare, questo è un consiglio che è legato all'attualità, cercare di lavorare, e questo te lo permette internet, di lavorare senza nessun problema. Quando ho cominciato io era molto difficile perché bisognava andare sul posto. Lavorate se è possibile con case di dirigi straniere, perché adesso appunto con la rete puoi tranquillamente spedire le tavole nel New Jersey senza muoverti da casa e quindi sfruttare sicuramente queste nuove mezzi di comunicazione. C'è un periodo molto difficile per chi voglia disegnare fumetti. È il periodo che segue per esempio al periodo in cui si è frequentata una scuola. È un periodo in cui non hai ancora lavoro, non sei più seguito come lo sei a scuola dagli insegnanti, c'è il confronto con gli altri allievi, sei da solo e non hai ancora degli incarichi remunerati. Questo periodo è difficile perché occorre fare forza sulla propria autodisciplina, sulla propria determinazione, sulla voglia di migliorarsi. Però occorre fare leva sul proprio carattere, sulla propria forza di volontà. E non è un periodo facile da superare. Molte persone, anche brave, a volte si arenano in questa fase. Ecco, quello che io invito a fare è di tenere duro in questo periodo e aspettare che arrivi l'occasione, l'incarico.